Partita la prima batteria, quindi vincitori della batteria, sei tempi per andare a formare la finale a otto, finali che speriamo di poter correre, perché potremmo essere sfortunati di aver costruito le finali e non potercele godere, ma confido negli scongiuri sulle tribune, intanto ha dato Mallorca in testa, seguito da Citerio, intanto diamo le tue atti in cinque tempi junior femmine, Castolina Martina, Cesca Selena, Clementoni Sofia, De Rozza Martina, Giulia Bedono, Siamara Campana, per l'attore della polisportiva di Bellusco, Bossi, in testa, e va a spaccare con Gobato, uno venticinque, settacinque, il tempo. Partita la seconda batteria di semifinale di Junior Maschi, con l'atleta della Fortitudo Fabriano Scassellati, che si è portato subito in testa, Scassellati, Peccianti, Di Paola, nelle prime posizioni, ora Peccianti, Di Paola, e poi da Spinnini. Eccoli al passaggio sulla linea del traguardo, con ora l'atleta del rolling, Bossica, che va a fare la sua parte, cambi regolari, finora, tra questi atleti, che vanno a caccia del tempo, 580, ha morito, intanto il passaggio, a chi si è cercano, è la 651, al passaggio suono della campana, con l'atleta del Samurai Line, che si è portato in testa, Monchiero, Monchiero, ecco la volata, con Di Paola, Monchiero, Di Paola, vanno a chiudere in 1,24,772, a chiudere in testa, Monchiero, ecco la volata,